La condivisione, qual è la differenza principale? La legittimazione della militanza da un lato l'aver fatto un congresso, quindi persone che decidono chi votare in base al programma e quindi premiano un programma piuttosto che un altro e un direttivo. Un direttivo significa delle persone che si impegnano e vengono votate per l'avvenire della Lega e dell'avvenire della sezione e si impegnano soprattutto per il barese, la nostra barese. Quindi questa è la grande differenza. Io assolutamente coinvolgerò tutti dal primo all'ultimo, anche perché non possiamo fare a meno di nessuno in questo momento e ripeto, tutte persone, insomma, galantuomini anche se sono donne comunque, c'è grande galanteria tra di noi, non si può dire galandonne, però il concetto è quello. Ci sono le regionali tra pochissimo, dobbiamo iniziare sin da subito a far capire che Attilio Fontana ha fatto tante cose giuste, ha superato una pandemia che ha avuto come epicentro occidentale la Lombardia, quindi il centro dell'epidemia nell'occidente era la Lombardia e noi abbiamo saputo reagire a questa cosa così tragica e si sono state fatte però anche tante altre cose buone che devono essere portate avanti e soprattutto comunicate alla popolazione, perché la Lombardia funziona, poi non funzionerà certo tutto sempre come uno vorrebbe, ma l'aspirazione di fare sempre meglio e lo dimostreremo.